Sì, per esempio, io sono molto curioso di vedere la Juventus, che succederà. No, ragazzi, è arrivata una notizia. No, non mi dire che è quella lì. Eh sì. Attenzione, aspettate le pazienze di ritardi. Io non ho nessuna conferma. No, ragazzi, allora, questa è una regola che voglio mettere in questa conoscenza. Lo so, state mettendo tutte delle cose. Io non ho ancora una conferma ufficiale, ma adesso si misa, amici. Adesso andiamo avanti. Allora, intanto andiamo avanti, poi intanto... Scusate, è un momento un po' così, ma siamo in via. Allora, ragazzi, stanno arrivando... È arrivata la Juventus. Mi sa... Non pubblicato a... Allora, io direi, ragazzi, che... Intanto Luca, io capisco che... Giusto se vuoi fare un piccolo ricordo, così, sono per... Non preferisco, Fabio... Non capisco, non mi spiace, Luca. Ti saluto. Ti volevo bene. Ti volevo bene, non lo so, ti volevo tutti bene perché era comunque una persona speciale. Tu quant'anni sei giocato? Eh, io un po'. Un po'. Un po'. Era un bel avversario, era un bel avversario. Quello sì. Ti abbraccio Luca di Riggio. La sua guardia... Che è stata un bel avversario dell'Italia. Allora, è un po' di pizzerazioni in questa ric洲. Non lo so, ti volevo bene. La sua guardia è un po' di… Si ho guarda qua.